Pronti per la partenza? Siamo pronti, abbiamo un gruppo bellissimo, fate ciao! Prontissimi, sì. Certo che sì. Prontissimo, grazie. Sì, prontissimi. Sì. Quattro pass tra le colline del Prosecco. Domenica 23 aprile si è tenuta nella frazione di San Pietro di Barbozza, la tradizionale corsa, che da ormai 13 anni raduna podisti appassionati di nordic walking e dello sport all'aria aperta. Sì, è a due passi da casa, la quattro passi. Tre, i percorsi previsti per l'edizione 2017, che hanno permesso di riscoprire le bellezze paesaggistiche del territorio dell'Alto Trevigiano. Dal percorso dei 6 chilometri, una prova speciale del progetto Sport Insieme, curato dalla scuola media Efrem Reatto di Valdobbiadene, a quello dei 12 chilometri, fino alla vera e propria sfida, la novità del trail da 25 chilometri, che con i suoi 1900 metri di dislivello ha toccato la località Marieke di Pianezze e messo a dura prova i partecipanti, ripagandoli però con paesaggi e scorci davvero suggestivi. Salve, voi partecipate alla corsa? Certo, io anche le mie amiche qua, qua, qua le mie amiche. Di dove siete? Valdobbiadene, Montebelluna, Farra, Misto. Cosa fate? Che percorsi? La 12 chilometri. Siamo neo cinquantenni per cui ci teniamo in forma con questa grande prestazione. Da dove venite? E veniamo da signoressa? Da Cimavilla. Da Pinedi Soligos. Da Valdobbiadene. Da Treviso. Codogne, Codogne. Castelfranco Veneto. Maserata. Sado Stefano. Da Seusino. Treviso. E a due passi da casa, la quattro passi. Una manifestazione resa possibile grazie all'impegno dei membri del gruppo podistico-amatoriale Valdo Group e dei volontari che si sono messi in gioco per garantire sicurezza ed efficienza all'evento che quest'anno ha toccato circa 3.000 presenze effettive il giorno della gara. Abbiamo rimesso in piedi questa vecchia tradizione di San Pietro di Barbozza perché già negli anni 70 esisteva la quattro passi qui a San Pietro di Barbozza adesso sono 13 anni che la stiamo tenendo in piedi noi con bei risultati, in bella presenza, decisamente bene. Come è nata l'idea di questa manifestazione? Principalmente per coinvolgere i ragazzi e le famiglie per avvicinarli al movimento all'aria aperta e quindi questo è uno dei nostri principali obiettivi. Una manifestazione che è anche territorio? Sì, su questo noi puntiamo molto con due obiettivi. Uno, offrire i nostri prodotti tipici, prosecco, pane, formaggio, soppressa, i nostri ristori sono tutti caratterizzati così. Due, non sporcando il territorio, non mettiamo con la vernice a terra, non sporchiamo, non facciamo frecce, solo frecce appiccicate, cartelli e fettucce che poi rimuoviamo e ripuliamo tutto. Quando è questa sera è tutto a posto. E un ringraziamento va anche agli sponsor, ai numerosi sponsor che hanno partecipato a questa manifestazione? Sì, sicuramente, ovviamente senza gli sponsor non si potrebbe fare nulla. Il principale nostro sponsor è la cantina Varaskin Spumanti qui di San Pietro di Barbozza. Da quest'anno anche una buona collaborazione con la Fratelli Campagnolo CMP di Romano Dezzelino e poi decine e decine di altri sponsor che anche con piccoli importi ma ci aiutano a tenere in piedi la manifestazione. Quest'anno inizia in più la novità della gara lunga. Ogni anno abbiamo sempre messo una lunga del 18-20, quest'anno 25 km con un dislivello molto impegnativo, un trail impegnativo, arrivano fino a Mariek a quota 1.504 con 1.900 metri di dislivello e 25 km di sentieri, strade sterrate su e giù per la nostra montagna. Ci sono 110 volontari lungo il percorso, non è facile tenere in piedi manifestazioni di questo tipo e gestire migliaia di presenze qui a San Pietro che non ha molti spazi per la sosta e per la ricettività automobilistica degli avventori. La gara del trail è stata vinta dal giovane Nicola Zarpellon della società sportiva M Running Team con un tempo di 2 ore 39 minuti e 24 secondi. Allora, percorso secondo me rispetto alle scorse edizioni un po' più, anzi, considerevolmente più tecnico e anche dal punto di vista paesaggistico proprio una cosa che veramente mi ha colpito il cuore, soprattutto nella parte più alta, nella zona della vetta dove si scollina. Lì, per fortuna, c'era anche un percorso che ti permetteva di correre, una stradina bianca e correndo, essendo una tira poco tecnica, avevi anche la possibilità di guardarti attorno, di distrarti, di riprendere fiato. Dietro di lui, con soli 5 secondi di distacco, Simone Zanella, dell'Atletica Valdobbiadene. Un primo e secondo posto che i due atleti si sono combattuti sportivamente. Una gara impegnativa, una gara che ha dei panorami importanti da vedere, soprattutto per chi la vuole camminare. Spero sia una gara che prenda passo perché potrebbe essere anche una gara di buon livello, perché ha una bella salita, ci sono le discese impegnative, è stata tracciata bene, complimenti all'organizzazione. Il terzo gradino del podio è andato invece a Marco Livio, giunto al traguardo con un tempo di 2 ore, 52 minuti e 52 secondi. Com'è andato il percorso? È bella dura, bella tosta. Comunque è stupendo, è tutto un cambio di ritmo sempre, sempre. La giornata ha aiutato il percorso, vado a ringraziarli veramente, da fargli i complimenti per via del percorso. Non so se l'hanno ricavato loro o la natura, questo percorso, perché è veramente favoloso, stupendo, complimenti. Nella categoria femminile, il primo posto assoluto è stato conquistato da Laura Bello, che ha concluso la gara con un tempo di 3 ore, 15 minuti e 12 secondi, seguita da Serena Schievenin, della società A3 Fotomeccanica Triathlon, con 3 ore, 19 minuti e 37 secondi, e a distanza di 30 secondi, Silvia Tomasini, dell'Atletica Audace Noale. Avevo la seconda e la terza sempre alle calcagne, infatti non pensavo di arrivare prima, sinceramente. Comunque sono felice perché ho realizzato il mio sogno, quello di fare un trail nelle montagne che io amo vicino a casa e dove mi alleno. Il percorso era molto impegnativo, c'erano diversi cambi di pendenza, salite e discese, e là bisogna essere portati, insomma, perché dopo una discesa molto tecnica c'è una salita altrettanto tecnica. Bene, percorso bellissimo, stupendo, la giornata meravigliosa, anche su in cima ne valcia la pena. Sono contentissima, è stata molto dura, però è un percorso molto bello, faccio i complimenti all'organizzazione. Nel percorso dei 12 chilometri la medaglia d'oro è andata a Nicola Spada, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 47 minuti e 13 secondi, immediatamente seguito a distanza di un solo secondo da Giorgio Dell'Osta. Il terzo posto è invece andato a Ottello d'Allarmi, con un tempo di 50 minuti e 10 secondi. Per la categoria femminile, invece, si sono aggiudicate il podio Ambra Vecchiato, con il tempo di 1 ora e 10 secondi, Milena Pasin, con 1 ora, 1 minuto e 51 secondi, e Nicoletta Dal Ponte, con 1 ora, 4 minuti e 15 secondi. La prova dei 6 chilometri ha visto salire sul podio per la categoria maschile Sofia Angu Udadi, Riccardo Munari e Giovanni Cipriani, e, per la categoria femminile, Anna Rento, Scita il Prosdocimo e Serena Bacchetto. Ma nella quattro pass non sono state valorizzate solamente le prove individuali. Ad essere premiati sono stati anche i gruppi più numerosi, primo fra tutti il Fitness Factory di Montebelluna, con 89 iscritti, seguito dalla Scuola Materna Brunoro, con 47 iscritti, e dal gruppo Altamarca Nordic Walking, con 36 iscritti. E a due passi da casa, la quattro passi. L'appuntamento, visto il successo di questa edizione, è per il 2018, con la manifestazione podistica quattro passi a San Pietro di Barbozza. E a due passi da casa, la quattro passi. È passi da casa, la quattro passi a San Pietro o